e rieccomi di nuovo qua quest'oggi sono da solo dopo tre settimane di ospiti tornato nella modalità tradizionale puntata in italiano ricordo che ogni settimana le puntate vanno avanti ma una puntata sarà in italiano e ora in inglese quella in italiano della settimana in inglese si trova sul mio patreon che potete andare in qualsiasi tier di abbonate ci sarà comunque il podcast automatico in italiano tutte le settimane oggi la puntata sarà un po particolare poiché ho deciso consigliato da mio nipote di leggere un una parte del libro che ho scritto per chi non mi conosce per chi mi conosce lo sa che ho scritto qualche libro un paio di romanzi un libro anche sulle arti marziali uno sulla magia chi non mi conosce invece viene a scoprirlo solo oggi per cui leggerò il primo capitolo vediamo quanto lungo sarà magari sarà solo mezzo vediamo e così se volete poi metterò il link in descrizione per poterlo acquistare su amazon il libro ovviamente è un libro di avventura arti marziali incorporate ma c'è un po di tutto il libro si chiama la via del guerriero e in verità è una seconda edizione in precedenza era la via la verità la vita l'arte ho voluto ripubblicarlo con la via del guerriero per avere un titolo più chiaro troppo magari quello prima era un po lungo e non si capiva esattamente di cosa si parlava nel libro ma neanche così si capisce se non si legge la descrizione non vi farò l'introduzione quindi l'ambientazione vi lascerò un po così ad ascoltare i primi il primo capitolo la prima parte della storia capitolo 1 il clamore della folla si spegne quando vede che scedar il campione locale cade a terra pesantemente ogni persona presente si chiede come sia possibile che un ragazzo alto un metro e settanta abbia potuto battere il loro campione alto due metri e cinque erano convinti che dopo uno dei poderosi pugni di scedar l'incontro sarebbe terminato ma il suo attacco colpì l'aria e il suo avversario roteò su se stesso sferrando una gomitata al fegato che lo paralizzò impedendogli di evitare il montante che l'avrebbe steso di lì a pochi istanti un brusio si diffonde nell'aria poi la folla riprende a strepitare e a celebrare il nuovo campione nonostante il combattimento sia stato breve il viso del ragazzo è imperlinato di sudore che scorre lungo le linee del viso solcato da un sorriso gli si avvicina l'arbitro con in mano una piccola agenda che afferrandogli il polso gli alza la mano il vincitore e malchi della loggia di penji esclama gran voce per sovrastare i festeggiamenti del pubblico mentre il sudore del ragazzo scende all'interno della camicia smanicata con gli alamari creando macchie scure sul tessuto purpureo l'uomo li consegna il taccuino battendo cedar la loggia dei guerrieri riconosce malchi come nuovo campione della città di kartas le 40 persone che stanno intorno ai lottatori continuano a festeggiare scedarsi rialza ancora un po intontito e stringe la mano al ragazzo il suo sguardo incrocia quello di malchi velato da un paio d'occhiali da sole bravo ragazzo non pensavo avesse il pugno pesante dice quasi ridendo il robusto guerriero già afferma ragazzo mai sottovalutare l'avversario continua poi tutti vanno a festeggiare dalla folla però esce malchi che si avvicina dalla parte apposta esce malchi che si avvia dalla parte opposta e ora che torni a casa il gran portone del granaio dove si erano radunati si spalanca in fondo ho solo 17 anni e si inoltre nella strada che entra nel bosco un uomo sta correndo nella notte si volta spaventato sembra che stia scappando da qualcuno o qualcosa nell'aria si sente un ronzio e ad un tratto davanti a lui compaiono due occhi luminosi dove credi di scappare dice una voce elettrica l'uomo risponde spaventato cosa ti ho fatto una risata isterica nasce da quegli occhi luminosi fluttuanti nell'aria l'uomo che prima stava scappando si prepara a combattere un artiglio viene fuori dal nulla e lo colpisce alla gola senza che se ne possa accorgere facendolo cadere esanime a terra gli occhi si allontanano scomparendo nell'oscurità è mattina presto nella città di pengi il sole ancora basso infonde sfumature arancioni sulle strade vuote si sentono i rintocchi delle zappe dei contadini che colpiscono il terreno duro l'odore del pane appena sfornato pervade la città malchi cammina tranquillo in una piccola via costeggiata da case circondate da muretti di mattoni in terracotta 100 pensa il ragazzo 100 vittorie riconosciute dalla loggia il vecchio mi dovrà ascoltare adesso se vicino al portone più grande con il muro più alto di fianco è situata una campana grande quanto un pugno appena tocca la grande porta di legno per aprirla il ragazzo sente come una presenza alle sue spalle se già sveglio giracu anche dopo due giorni di viaggio riesce a sentire anche dopo due giorni di viaggio riesce a sentire la mia presenza ma anche si gira sul muretto che gli sta davanti è seduto un ragazzo di bell'aspetto appoggiato con il braccio sinistro sul ginocchio dello stesso lato che tiene alzato mentre lascia cadere ciondoloni e due arti rimanenti tiene la testa leggermente inclinata lasciando cadere un ciuffo di capelli che li copre parzialmente l'occhio sinistro con un cenno del polso fa comperire una busta tra le dita il maestro mi ha detto di darti questo quando saresti tornato senza alcuno sforzo la lancia contro malchi che la ferra prontamente il maestro il ragazzo la apre e comincia a leggere nel contenuto caro malchi quando tornerai io sarò già partito per andare ad allenarmi sulle montagne starò fuori per una settimana perciò dovrei aspettare quel tempo per riferirmi ciò che mi dovevi dire mi dispiace saluti zoram maledetto secondo me se ne andato apposta suppone malchi sorridendo con cattiveria ad un tratto i due sentono qualcuno correre verso di loro gridando affannosamente malchi malchi è un ragazzino con il viso preoccupato malchi dov'è tuo padre c'è bisogno di lui in piazza se n'è andato a quanto pare risponde guardando la lettera poi la piega e se ne infile in tasca il ragazzo sul muretto esegue una capriola indietro e spingendosi con una mano salta giù atterrando dietro il ragazzino e dice in qualità di allievi prenderemo il suo posto malchi fa un segno di approvazione ed entrambi lo seguono fino alla piazza principale dove ci sono dei paesani che borbottano preoccupati tra loro davanti alla fontana circolare situata al centro della piazza proprio seduto sul bordo della fontana c'è uno straniero che continua a bagnarsi la faccia appena si piazzano davanti l'uomo quasi grida chi dei due zoram il sacerdote malchi sconsolato risponde è mio padre e non è in città il forestiero sembra sconvolto e prima di parlare nuovamente si lancia due manate d'acqua sul volto nella nostra città ci sono stati misteriosi omicidi dovuti forse a bestie feroci o addirittura a mutanti persone dilaniate da artiglie grandi quanto mannaie dice mostrando con le mani due dei nostri migliori guerrieri continua sono già stati uccisi pensiamo che solo un sacerdote guerriero possa battere una creatura simile e adesso che zoram non c'è sconsolato chi nel capo poggiando le mani sulle tempie ma giraco interviene impetuoso anche noi siamo sacerdoti guerrieri lo sconfiggeremo finisce la frase malchi i due tornano rapidamente a casa per fare i bagagli non sono sicuri quanto durerà questo incarico d'altronde è il primo che accettano senza l'aiuto del maestro mettono qualcosa sotto i denti prima di raggiungere lo straniero malchi indossa un guanto nero sulla mano destra che li lascia scoperte le dita mentre sul polso sinistro ha rotolato un mala di legno giraco indossa una giacca leggera che lascia aperta mostrando il torace muscoloso porta pantaloni in pen porta pantaloni in pelle con stivali neri corredati di cinghe ma come quelli di malchi non gli bloccano i movimenti della caviglia la città dove stanno andando non è molto distante un paio d'ore di cammino la strada principale passa in mezzo ai campi dei contadini e l'odore della terra fresca si mescola con quello dell'asfalto scaldato del sole di tanto in tanto passano dei carretti trainati da cavalli che trasportano legna e pezzi di metallo lo straniero serve i due ragazzi malchi sembra più giovani di quanto non sia a caso dei tratti dolci del viso costantemente solcato da un sorrisetto gli occhi sempre coperti dalle lenti giallo scuro nei suoi occhiali in coordinato con i suoi capelli che al sole prendono i riflessi dello stesso colore con delle striature le cui punte sembrano le piume di un'aquila giraco invece è capelli più lunghi che gli arrivano appena sopra gli occhi lisci e neri come il manto di una pantera lo sguardo fisso davanti a sé fiero ma con un'espressione pacifica mi chiamo liam dichiara ad un tratto lo straniero non avevo ancora avuto il tempo di presentarmi il mio villaggio vi sarà molto riconoscente purtroppo da noi non ci sono sacerdoti guerrieri e la città più vicina è la vostra il ragazzo con gli occhiali si gira verso di lui è detto che due dei migliori guerrieri sono stati sconfitti di che classe erano liam risponde erano solo insegnanti com'è possibile che voi abbiate solo insegnanti nel vostro villaggio chiede stupito giraco abituato fin da piccolo a vedere anziani e sommi sacerdoti e già in fondo è il destino di tutte le città del confine si cerca di portare la tecnologia senza alterare la vita ma non è possibile risponde deluso dopo due ore arriva una destinazione il sole è ormai alto e sui raggi si diffondono in tutte le vie della città animate da persone che camminano e da carretti trainati da piccoli trattori alimentati da energia solare liam porta i due ragazzi all'obitorio dove sono situate le vittime delle sere precedenti malchi e giraco cominciano a ispezionare i corpi notando subito che tutti hanno la giugolare lacerata dartigli lunghi almeno cinque centimetri nella cartella clinica leggono che i corpi riscontravano un irrigidimento muscolare che faceva supporre un'ora del decesso del tutto inattendibile poiché in quel momento le vittime erano state viste ancora vive questo fa dedurre che prima di morire stavano combattendo o scappando suppone malchi ma dato che non hanno segni di lotta significa che sono stati sconfitti con un colpo unico quindi stavano scappando conclude giraco i ragazzi pensano ancora per un po poi malchi risponde se stavano scappando da una belva sarebbe stato attaccato alle spalle quindi suo nemico gli era davanti ma se fosse stata una belva feroce l'avrebbe morso alla gola non artigliato e nel caso fosse stato un orso una bestia alta come un uomo sarebbe stata più lenta e non sarebbe riuscita a colpirli gli insegnanti almeno dice giraco ancora una breve pausa conclusione dice malchi stavano scappando da qualcosa che li inseguiva ma sono stati superati continua giraco e poi colpiti alla gola da un artiglio di almeno cinque centimetri lia un riguarda stupefatto non capisce come riescono a ricostruire i fatti in modo dettagliato ed essere così freddi al cospetto di quei cadaveri ma rimane ancora più stupito quando vede il ragazzo con gli occhiali del sole alzare la testa verso il soffitto e passare le mani qualche centimetro sopra il cadavere per poi spostarsi su quello accanto e così per tutti mentre il suo compagno ne annusa le ferite c'è qualcosa di strano dice malchi già ho percepito un odore di metallo non può essere stato un animale rimane la teoria del mutato afferma giraco no se fosse stato un mutato avrebbe lasciato un residuo della sua aura nelle ferite lo stesso se fosse stato un uomo con la spada poiché la sua energia l'attraversa ma in queste ferite non c'è nulla sembra che si sia fatto male contro qualcosa da solo non capisco i ragazzi chiedono se possono rimanere in città a dormire per studiare meglio il caso così liam decide di ospitarli a casa sua per il resto della giornata vanno in giro per la città studiando nelle vie e i possibili nascondigli e continuando a pensare al caso arriva alla notte i due escono dalla casa di liam i ragazzi utilizzano la tecnica per nascondersi nell'ombra caratteristica delle truppe speciali del paese per muoversi nella città addormentata senza essere visti a un tratto percepiscono del movimento in fondo a una via corrono con tutte le loro forze arrivano alla fine vedendo un uomo che si sta fermando stremato da una corsa senza termine poi vedendo che davanti a lui compaiono degli occhi luminosi e sento una risata isterica maledetto come hai fatto lasciami in pace dice affannosamente l'uomo poi una voce elettrica gli risponde lasciarti in pace starebbe come pescare un pesce poi farlo scappare non avrebbe senso scappa grida malchi mentre corre verso l'uomo cosa si chiedono gli occhi prima di essere colpiti da un calcio volante di giraco in quel momento i due si accorgono che quegli occhi luminosi appartengono un uomo sono parti di occhiali speciali che passano sopra la testa anziché che ai lati creandoli una cresta di capelli al centro a entrambi gli avabracci e strani guanti artigliati di metallo che sembrano più che altro delle protesi mentre l'uomo affaticato si trascina via giraco atterra davanti a quello strano tipo il quale indietreggia maledetti grida avete fatto scappare la mia preda dovrete pagare con la vita poi punta una delle sue mani artigliate contro giraco che il più vicino e questa parte si stacca dal corpo e vola per colpirlo alla gola il ragazzo senza nemmeno capire come possa riuscirci schive istintivamente l'attacco che però torna indietro come un boomerang rischiando di centrarlo la nuca per fortuna i riflessi pronti del ragazzo gli permettono di evitarlo nuovamente ma come ha fatto pensa malchi mentre si avvicina al compagno dobbiamo disarmarlo fa notare giraco al suo amico appena prima che entrambi gli artigli dell'avversario gli piombino addosso i ragazzi saltano in direzioni opposte facendo schiantare il colpo del nemico contro il terreno prima che le mani tornino al loro proprietario i due gli sono già addosso e mentre sferano colpi con la foga di bestie feroci vedono che non sono delle armi quelle che usa il nemico ma sono le sue mani questo causa un attimo di esitazione da parte di malchi che viene colpito da una frustata della mano nemica che lo fa indietreggiare fino a farlo sbattere violentemente contro un muro giraco approfittando del fatto che l'avversario ha distolto il sguardo da lui lo afferra alla gola questa presa è famosa nel suo paese la chiamano la stretta del cobra a caso della sua potenza letale soprattutto se eseguita da giraco se continuasse a stringerlo in quel modo probabilmente gli farebbe saltare la testa ma non ne ha il tempo le mani tentacolari del nemico lo avvolgono facendoli perdere la presa non mi farò battere così facilmente pensa giraco dolorante poi il suo viso cambia espressione passando da sofferente a rilassato e comincia a fissare il suo avversario negli occhi cosa avrà in mente pensa l'uomo dalle braccia meccaniche non sento più il suo respiro ma non è morto non capisco cosa voglia fare non può attaccarmi intanto il ragazzo continua a fissarlo malchi guarda la scena seduto contro il muro che botta pensa mentre si passa una mano sulla nuca il ragazzo ha visto altre volte quello sguardo su giraco e la tecnica dell'ipnosi di solito la utilizza prima che cominci l'incontro o come tecnica finale quando entrambi sono stanchi l'aveva provata anche contro malchi ma con lui non aveva mai funzionato perché solo le persone con energia inferiore a chi le esegue possono essere ipnotizzate ad un tratto le braccia che avvolgono il giraco si allentano e il ragazzo liberato si dice chi sei e perché hai ucciso quelle persone le gambe dell'uomo vacillano e cade a terra poi risponde mi chiamo kilix sono un ex soldato delle truppe degli uomini macchina dopo la guerra non sono riuscito ad adattarmi alla vita da civile e poiché in questa parte del mondo non sono molto conosciute le macchine pensavo che avrei potuto continuare a uccidere senza essere scoperto se ti fossi inoltrato nel paese non avresti avuto alcuna possibilità di sopravvivenza gli dice giraco l'altro ragazzo gli si avvicina non possiamo ammanettarlo ma in qualche modo dobbiamo portarlo via detto questo lo colpisce tra la seconda e la terza vertebra con il taglio della mano kilix si accascia a terra privo di sensi nelle profondità di una foresta c'è un uomo seduto a gambe incrociate nella posizione del loto agli occhi chiusi sembra stia meditando il fresco vento della notte fa ondeggiare le sue folte basette e i lunghi capelli neri tenuti raccolti con un laccio grezzo sventolano come una bandiera il volto segnato dal tempo è la prova della sua esperienza ed età oltre a qualche ruga il viso è sulcato da una cicatrice verticale di 10 centimetri in corrispondenza dell'occhio sinistro ad un tratto qualcosa interrompe la sua meditazione veni distratto da una presenza cosa vuoi chiede l'uomo in meditazione tenendo ancora gli occhi chiusi arkham desidera incontrarla risponde l'uomo arrivato alle sue spalle diteli che non gli insegnerò mai l'arte il capo mi ha ordinato di eliminarla nel caso non l'avesse accettato puoi provarci il vecchio gira la testa di scatto e l'uomo arrivato dal nulla si ritrova a terra senza capire come se non vuoi più vivere continua l'uomo a terra si alza con un balzo e tenta di attaccarlo ma il vecchio devia ogni suo colpo solamente con la mano sinistra poi una lieve rotazione del bacino un piccolo movimento delle piede e la mano destra colpisce il suo avversario come un colpo di cannone facendolo volare per qualche metro non disturbatemi mai più esclama il vecchio dei capelli lunghi non credere che arkham rinuncia all'arte non sei l'unico a possederla dice l'uomo mentre si rialza malamente dopodiché scompare nell'oscurità così come era comparso bene ragazzi questo è il primo capitolo della via del guerriero e dovete scusarmi magari del alcune imprecisioni durante la lettura spero che abbia catturato la vostra attenzione e se volete sapere di più sapete dove trovarla vi ricordo i vari canali come potete contattarmi vedere anche le altre cose gli altri progetti quindi c'è il la pagina ovviamente di tenkaichi tournament instagram e torneo tenkaichi su facebook la mia pagina personale master simone marini su facebook instagram e ovviamente youtube dove potete vedere anche i vari allenamenti prossimamente c'erano anche nuovi allenamenti quindi tenetelo d'occhio detto questo vi auguro una buona settimana allenarsi